Oggi amici voglio parlarvi di questo bellissimo arbusto che poi diventa anche albero, un bell'alberello, ovvero il prunus lusitanica o pruno spagnolo. In realtà vedete che adesso sta in piena fioritura, anzi alcuni fiori sono già sfioriti, come vedete, il profumo è molto buono, è dolce, somiglia come a quello un po' del ligustro, infatti potete anche confonderlo certe volte con l'igustro, ma mi raccomando non confondetelo, perché? E adesso torniamo alla differenza con l'alloro ed altre piante simili, ma non assolutamente uguali. Il prunus lusitanica in realtà è velenoso, ma velenoso nel senso che proprio nelle foglie, le foglie se, come posso dire, spezzate rilasciano cianuro. Ovviamente, anche quando sono secche, tutto comunque sia, quindi c'è da dire questo, rilasciano cianuro. Quindi mi raccomando, comunque sia un arbusto da mettere in giardino, ma per estetica, perché è molto bello, profumato anche, oltre questo però non si fa un uso assolutamente erboristico o altro. Grazie. 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 Grazie.